Ciao a tutti, ho avuto il regalo da Nicolò, il luogo di Pasqua della casa di carte di Netflix. Una cosa super trash è questo famoso serial tv dove sono questi ladri che vanno ad attaccare la zecca di stato. E insomma adesso scopriremo la sorpresa al suo interno senza rompere troppo l'uovo. Guarda Mauro quanto non diceva. Ecco qua, è un porta i-past scritto alla casa di carte. Mamma mia che sorpresa inutile, io non ho neanche... No che ti fai male! Io non ho neanche gli auricolari quindi dovrò comprarli per utilizzare questa cosa. Allora voi fatemi sapere, avete trovato una sorpresa più brutta di questa dentro il vostro uomo di Pasqua? Guarda che utile è quello. Ciao a tutti, ecco lo regalo a te. Quanti regali? Ciao! De pappe? Ma io ce l'ho però posso tenerla per le prossime.